In questo numero, il tumore della vescica ha un problema sempre più risolvibile. Troppi esami da endocrinologi, 5 pratiche a rischio e inappropriatezza. Pronto soccorsi affollati più 10% di accessi nelle prime settimane di luglio. E ancora, AIFA ecco i farmaci che con la canicola possono favorire dei disturbi. Studio italiano svela misteri nella membrana cellulare. Malattie gastro-reumatologiche, un milione gli italiani che ne soffrono. Il vero o falso di questa settimana parla dell'esposizione al sole. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Sono 27.000 l'anno in Italia i nuovi casi di tumore della vescica. E si stima che a causa dell'invecchiamento della popolazione saranno 30.000 nel 2020. Molti anche giovani colpiti da questo tumore, che nell'80% dei casi si cura localmente. Mentre nel restante 20%, ben più aggressivo, bisogna rimuovere la vescica e ricostruirla. Questa può essere fatta attraverso la vescica ortotopica. Cioè si prendono 50 cm di intestino, si apre, si costruisce una palla tipo con le cociture della palla da tennis, si attacca all'uretra e agli ureteri e nella migliore condizione. Quando questo non è possibile per motivi oncologici o perché l'uretra che deve essere utilizzata è interessata dal tumore, bisogna derivare le urine in maniera diversa, quindi non in maniera ortotopica ma eterotopica. Questa può essere fatta attraverso il sacchettino o attraverso questa tasca continente, che è una soluzione che è ottima sia per l'immagine del paziente e per la vita normale del paziente stesso. C'è un modo per capire quando si è in presenza di un tumore della vescica? Il problema è che quando si ha il sangue nelle urine, questo è il segno più importante, oppure quando si hanno quelle cistiti che non sono batteriche, cioè si fa l'esame urine in urinocultura e non ci sono batteri. Però continua questo bruciore, questa frequenza molto alta. In questi casi bisogna approfondire l'indagine facendo un'ecografia, una citologia urinaria che è un esame semplice delle urine dove si studiano appunto le cellule che vengono esquamate dalla vescica e successivamente con una cistoscopia. La cosa importante quindi è non trascurare il segno delle maturi e il segno della cistite non batterica e andare dallo specialista. Molte volte magari una ematuria fugace avvenuta due anni prima viene trascurata e poi si ripresenta dopo un anno o due quando ormai le cose sono avanzate e quindi è molto più complesso curare la malattia. Esami su esami prescritti dal medico ma molto spesso inutili, oltre che costosi. Sono cinque le pratiche mediche identificate dall'Associazione Medici Endocrinology a rischio di inappropriatezza, impiegate usualmente ma non supportate da prove di efficacia. In particolare andrebbe evitato di richiedere di routine l'ecografia tiroidea in chi non mostra segno sintomi di patologie tiroidee e non è a rischio carcinoma tiroideo, ripetere l'indagine densitometrica ossea a intervalli minori di due anni, richiedere il dosaggio del testosterone libero se si sospettano ipogonadismo e iperandrogenismo, è infatti preferibile basarsi sul testosterone totale, richiedere di routine il dosaggio dell'FT3 nei pazienti con patologia tiroidea, Nella maggior parte dei casi il dosaggio del TSH è sufficiente per conoscere la funzione della tiroide. Trattare indiscriminatamente con l'evotiroxina i pazienti con gozzo nodulare a lungo termine porta ad una condizione di tireo-tossicosi subclinica che è rischiosa specialmente per le donne in menopausa e per gli anziani. Confortati dai risultati di studi e metanalisi, abbiamo selezionato queste cinque pratiche cliniche endocrinologiche che non risultano efficaci, afferma Rinaldo Guglielmi, presidente Ame, convinti che fare di più non significa fare meglio. Questa convinzione ci ha anche portato ad aderire a Slow Medicine, rete di professionisti e cittadini per una cura sobria, rispettosa e giusta. Per il gran caldo delle prime due settimane di luglio sono aumentati del 10% gli accessi ai pronto soccorso d'Italia, un aumento più marcato nelle grandi città e in alcune regioni, dove si è arrivati al 20%. E' la fotografia scattata dalla Simeu, la società italiana di medicina d'emergenza e urgenza, che ha valutato gli effetti delle temperature eccezionalmente alte di questi giorni. L'aumento degli accessi è stato più contenuto in Piemonte e in Veneto, con picchi invece del 20% in alcune aree dell'Emilia-Romagna e del Lazio. Oltre all'incremento delle patologie imputabili al caldo, come disidratazione, colpo di calore e sincope, è stato riscontrato un aumento di scompensi di patologie preesistenti, cardiopolmonari, renali e metaboliche. In alcune regioni, come il Piemonte, si è registrato un aumento di mortalità che riguarda i pazienti più fragili, anziani con più patologie, malati cronici, allettati e fasce deboli. Medicinali e caldo, un binomio a cui prestare attenzione. Per questo, l'Agenzia Italiana del Farmaco invita a prestare particolare cautela nell'assumere i farmaci durante il periodo estivo e soprattutto durante le cosiddette ondate di calore. Le condizioni ambientali possono infatti incidere sull'integrità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali. Alcuni farmaci, come gli anticolinergici, antipsicotici, antistaminici, antidepressivi, ansiolitici, betabloccanti, vasodilatatori, antipertensivi, diuretici, antiepilettici e antiparchinsoniani, a causa del loro meccanismo di azione, possono interferire con la termoregolazione o alterare lo stato di idratazione. In casi estremi e solo sul consiglio del medico curante, può essere valutata la necessità di una rimodulazione della terapia. Svelati i misteri che ancora si celano all'interno della membrana cellulare. Si sa ancora poco di come cambiano le proteine che formano i canali ionici, i pori sulla membrana che avvolge le cellule. Gli scienziari della Sissa di Trieste hanno messo a punto un metodo innovativo per determinare la struttura delle proteine biologiche, immerse nel loro contesto fisiologico, e di osservare da vicino un importante canale ionico, scoprendo dettagli mai visti finora sul suo meccanismo di apertura e chiusura. In particolare è stato documentato per la prima volta che in corrispondenza dell'apertura e della chiusura del canale avviene un mutamento strutturale della proteina responsabile di questo meccanismo. Nello studio è stata presa in esame una proteina che si trova nei bastoncelli, le cellule fotosensibili della retina, ed è importante nel processo di fototrasduzione, trasformazione dello stimolo luminoso in segnale nervoso. In questo modo, concludono gli scienziati, il meccanismo di chiusura e apertura del canale diventa meno sconosciuto, e questo è importante perché si spera un giorno di poter utilizzare queste porte, per esempio per far entrare farmaci specifici direttamente nel cuore della cellula. Sono circa un milione in Italia le persone che soffrono sia di patologie infiammatorie gastrointestinali, sia reumatiche, malattie come il morbo di Crohn e la retta colita ulcerosa, che durante il lungo decorso si complicano con patologie che interessano la colonna vertebrale, come le spondiloartriti, o le articolazioni, come le artriti periferiche. Ma cosa accomuna queste malattie all'apparenza tanto diverse? Queste similitudini sono soprattutto legate al fatto che queste patologie hanno una causa comune, una causa che si identifica in un aumento notevole di alcune citochine infiammatorie, denominate soprattutto tumor necrosis factor alpha, che normalmente nell'individuo sano proteggono da alcune malattie, soprattutto infettive, ma quando vengono prodotti in eccesso determinano un danno da una parte della mucosa intestinale, determinando queste malattie infiammatorie intestinali, e da una parte della cartillagine determinando artrite e spondiloartrite. È proprio per facilitare la diagnosi e la cura di queste malattie infiammatorie croniche che a Roma, all'ospedale Nuova Regina Margherita, è stato aperto il primo ambulatorio di gastrorematologia. Il lavorare insieme di queste due figure specialistiche, gastroenterologo e reumatologo, fa sì che la diagnosi possa essere fatta in una fase più precoce, che la terapia possa essere condivisa e che anche il controllo successivo, cioè il follow-up del paziente, sia condiviso tra queste due figure professionali. È possibile guarire da queste patologie? Queste patologie, diciamolo subito, a scanso di equivoci, non guariscono. Però queste patologie, con una diagnosi precoce, con una terapia cosiddetta, la parola antipatica, aggressiva, e con un controllo seriato del paziente, possono essere controllate bene e possono guarire dal punto di vista sintomatologico. Cioè il paziente sta bene, riprende una qualità della vita normale e in un certo senso, diciamo che è guarito, però la malattia rimane sempre. È vero che le creme abbronzanti fanno male? Assolutamente no. Gli abbronzanti devono essere applicati per proteggere la pelle. Per attivare la vitamina D bastano pochi minuti al sole? Sì, è vero. Bastano pochi minuti al giorno, circa 20-30 minuti, e non è necessario esporre neanche tutto il corpo, ma basta una piccola porzione di corpo. È vero che non è normale spellarsi dopo l'esposizione al sole? No, assolutamente falso. Se uno attua delle rigorose regole di protezione dal sole, quindi di fotoprotezione, non dovrebbe spellarsi. È vero che prendere il sole fa bene alla salute? È vero. E' vero che esporsi al sole fa bene, soprattutto per alcune malattie della pelle, come la psoriasi e gli eczemi. È chiaro che bisogna eseguire delle regole. Prima regola, in ogni caso, non esporsi mai più di 3-4 ore al giorno, esporsi negli orari consentiti ed esporsi sempre con un'adeguata fotoprotezione. Le creme autoabbronzanti proteggono dal sole? Falso. Gli autoabbronzanti non proteggono dal sole, colorano lo strato più superficiale della pelle, quindi le cellule e le corne, ma non danno nessun tipo di fotoprotezione. È vero che le donne incinte non possono esporsi al sole? Falso. Le donne incinte possono esporsi al sole, certo c'è maggiore rischio di sviluppare quella manifestazione cutanea che si chiama melasma, che è una pigmentazione delle zone fotoesposte e quindi devono usare protezioni più alte. Sui bambini vanno usate sempre creme con 50 di protezione? È vero. I bambini devono essere protetti con solari sempre a protezione molto alta. Questo perché i danni del sole sono maggiori a questa età e poi si vedranno da adulti. E allarmi anziani in Italia per l'eccellente ondata di caldo che si è abbattuta sul nostro paese e che le espone a rischi maggiori sul fronte della salute, con conseguenze anche gravi legate all'AFA. Chiediamo alle autorità sanitarie di disporre visite a domicilio da parte dei medici di base in favore dei pazienti a rischio, con particolare riferimento agli anziani e soggetti che vivono soli. A lanciare l'appello è Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che sottolinea come è sufficiente misurare loro la pressione, ritirare o umidificare il dosaggio di alcuni farmaci, dare consigli su come fronteggiare il caldo e verificare la situazione generale di salute dei pazienti. Poche cose che possono essere però essenziali per salvare la vita agli anziani. Un adolescente francese siropositiva dalla nascita è in rimissione da 12 anni dopo l'interruzione della terapia. La ragazza, che ora ha 18 anni, non è considerata ancora guarita, ma è in buona salute per non prendendo più i farmaci. L'ho affermato a CSS Sirion, dell'Istituto Pasteur di Parigi, che ha presentato il caso all'International High Society di Vancouver. È il primo caso di un bambino siropositivo, evidenzia l'Istituto Pasteur, che è in rimissione dalla malattia per un periodo così lungo. Non sappiamo ancora il motivo per cui questa ragazza è in grado di controllare l'infezione, aggiungono gli esperti. Sono anni che facciamo i conti con la crisi. In alcuni reparti ormai scarseggiano anche i guanti, i ricettari e altri strumenti, ma a creare problemi è soprattutto la carenza di personale. Ci sono pochi medici per molti pazienti, così siamo costretti a fare turni massacranti, anche di 80 ore a settimana. E mancano pure gli infermieri. Per quanto riguarda l'allarme farmaci poi, dal 2010 utilizziamo i medicinali generici. Non ci sono griffati a disposizione. Abbiamo incontrato vari problemi, racconta, dalle reazioni allergiche a un'efficacia ridotta, in particolare nel caso degli antibiotici. A spiegare la situazione degli ospedali ellenici è Emmanuel Digenakis, gastroenterologo dell'University Hospital of Heraklion a Creta, che sottolinea come alcune strutture più piccole non hanno tomografi o altri macchinari diagnostici, tanto che devono mandare i pazienti da noi. Negli ultimi anni poi, chi è andato in pensione o si è trasferito non è stato sostituito, spiega il medico. I pochi specialisti rimasti devono fare turni impegnativi e naturalmente gli straordinari non vengono pagati sempre o interamente. Dopo 14 anni, torna sulle tavole degli italiani la paiata romanesca, ma anche tutti i salumi che per tradizione sono confezionati con il budello di bovino. È arrivato infatti il via libera dall'Europa, il regolamento che autorizza nuovamente il consumo di prodotti in precedenza esclusi dal consumo, a causa del rischio della cosiddetta muccapazza. Un risultato eccellente, ha dichiarato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ripaga il nostro Paese degli sforzi compiuti per i controlli negli ultimi 14 anni da servizi veterinari del Ministero della Salute e da quelli regionali. Grazie alla nostra battaglia sulla sicurezza si amplia la gamma dei prodotti esportabili ed è una buona notizia per il Made in Italy, conclude il Ministro. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.